Saltavano sulle auto in sosta, spaccando anche il parabrezza con i pezzi di metallo divelti dai cassonetti della spazzatura, ma grazie a queste immagini del servizio di sorveglianza e alla collaborazione delle ferrovie sono stati fermati ed identificati. I due vandali sono due ragazzi ventenni di Moncalvo, ora oltre al risarcimento dei danni non potranno recarsi ad Asti per i prossimi tre anni, ma sentiamo il questore di Asti Angelo Sanna e il commissario Raimondo Meli. Abbiamo avuto una segnalazione di alcuni ragazzi che stavano espletando atti mandalti su autovetture in sosta innanzi alla stazione ferroviaria, mentre la volante si recava in pochissimi minuti sul posto l'operatore della sala radio ha potuto, attraverso la manovrabilità di una delle telecamere della videosorveglianza in città, registrare le immagini in diretta dell'atto vandalico. Non soltanto, ha potuto anche verificare il luogo dove i due giovani si erano nascosti quando la volante è arrivata sul posto. Quindi l'interazione tra i due settori del nostro ufficio ha permesso l'identificazione dei due soggetti poi controllati. Noi interveniamo nella formazione alla legalità nelle scuole, ci incontriamo con i giovani. Nei giorni scorsi ho avuto degli incontri con i ragazzi del liceo scientifico e del liceo classico, ma non può essere solo il poliziotto. Deve essere costante e pressante la fase di intervento della famiglia, della scuola, degli educatori, dello sport, degli allenatori dello sport, di tutti quanti. Solo tutti quanti insieme potremmo raggiungere una cultura del rispetto delle regole e del non far male a se stessi, perché poi questi giovani con un atto come questo hanno fatto male innanzitutto a loro stessi. I due soggetti sono stati già deferiti dall'autorità giudiziaria locale per danneggiamento aggravato e sono stati colpiti dall'ordine del foglio di via obbligatorio dal comune di Asti e quindi per tre anni non potranno mettere piede in città. In questo weekend non è mancato anche un grande appuntamento per il vino con Nizza e Barbera. A Nizza e Monferrato sono giunte migliaia di persone. Sentiamo. Quest'anno questa manifestazione ha avuto uno sviluppo molto importante nei confronti degli anni precedenti perché i produttori ci stanno credendo. Abbiamo il Gota del Barbera che è una super zona del Nizza, sono tutti qui che espongono, c'è stato un afflusso molto massiccio. Abbiamo notato per la prima volta un grande afflusso di giovani. Ieri qui sotto il Foro Boario c'è stato un passaggio di giovani, tutti col bicchiere, tutti che degustavano senza fare cose al di fuori di quella che era degustazione. Questo mi ha fatto molto piacere perché significa che i giovani, pur sapendo che bevendo poi rischiano qualcosa, però è un riavvicinarsi al Barbera in una maniera molto importante. Ieri sera poi per le vie cittadini c'è stato un afflusso di gente incredibile, inaspettato anche perché l'incontro con l'enogastronomia a Nizza sta funzionando. È stata una grossa manifestazione, poi avete visto lungo le vie della città anche ci sono diversi stand, diverse gastronomie, quindi Nizza sta vivendo i suoi momenti importanti come sempre, tutti gli anni, e poi a Nizza vengono tutti volentieri. Dico che ieri sera 5.000 persone sono passate sicuro, fino stanotte a tarda notte verso l'1 alle 2 c'era ancora gente per Nizza, che mangiava. Quindi tutte le piazze erano piene, tutte le vie erano piene, i negozi sono stati aperti, i bar sono stati aperti e penso che tutti abbiano lavorato, che siano tutti contenti di questo sistema della manifestazione della nostra città. E per oggi qui da Asti è tutto, grazie come sempre per averci seguito, la linea torna allo studio.